La foto di Mustafa, il bimbo siriano nato senza arti a causa del gas nervino, ha fatto il giro del mondo e scatenato una gara di solidarietà. E ora nel centro protesi dell'Ina, il Divigorso di Budrio, dove sono stati assistiti i campioni d'atleti, stanno studiando le protesi per lui. Dalla TGR di Bologna, Neolson Bova. Partiremo prima sulle protesi di arto superiore, successivamente gli arti superiori stessi faranno da supporto per consentire una deambulazione assistita, quindi con o stampelline o un girello, per gli arti inferiori. Mustafa e il padre arriveranno qui, nel centro protesi Ina, il Divigorso di Budrio, nel Bolognese, tra oltre un mese. Per il piccolo non ci sono dispositivi già pronti, come per tutti i pazienti l'arto, per lui ben quattro, sarà realizzato su misura. Abbiamo qui delle protesine che possono far capire la situazione sull'arto sinistro di Mustafa, è una protesina leggera, ha l'articolazione del gomito e una manina. Invece a destra abbiamo un segmento di avambraccio con un elemento di abbozzo di dito. In questo caso potremmo adattare una protesina del genere. Per gli arti inferiori il dispositivo assomiglierà a questo già realizzato per un adulto. Immaginiamo che il bustino, anche nella parte destra, abbia il proseguo e quindi i due arti siano due arti artificiali. La sua invasatura sarà questo bustino, che sarà quella che darà l'interfaccia tra sistema protesi e il piccolo Mustafa. Niente di rivoluzionario quindi per il bimbo siriano, almeno all'inizio. Poi tareremo l'intervento secondo le necessità e gli sviluppi del progetto man mano che andremo avanti. Mustafa è nato così e così si è fin da subito organizzato per i giochi e le altre attività comuni a tutti i bambini di 5 anni. Se e come accetterà le protesi è un'altra incognita. Il bambino non conosce che significa avere gli arti, quindi il bambino dovrà seguire la fase che ognuno di noi ha seguito durante la crescita. Quindi dal carponi al mettersi in piedi. Lo psicologo sarà una figura importante nelle prime fasi proprio per cercare di trovare quell'empatia tra il bambino e le protesi necessaria che la protesi stessa sia in qualche modo accettata dal bambino. Molto diversa la situazione del padre. Il papà nasce con i propri arti. A seguito dell'incidente di guerra ha perso un arto, ma il papà ha una memoria. Anche per lui in una prima fase tecnologia tradizionale. Nella struttura di Vigorso di Budrio da 60 anni emanazione dell'Ineil e nelle altre due filiali di Roma e la Mezzaterme i 360 dipendenti realizzano per 11.000 pazienti 23.000 protesi ogni anno di cui 300 specifiche per lo sport agonistico. E la continua ricerca di soluzioni innovative come questo dispositivo modulare che lavora su muscoli potenziati assieme a quelli ancora presenti in seguito ad un incidente. La parte innovativa di questa mano consiste nel suo sistema di presa. Una volta che l'oggetto è afferrato è possibile muovere l'oggetto al suo interno e le dita continuamente si adattano alle sollecitazioni esterne.